Un intreccio di gioia, allegria, spettacoli, tradizione e innovazione, sono questi gli aggettivi con cui l'Associazione Culturale I Pochi Buoni, descrivono i loro lavori anno per anno, fino ad arrivare ad oggi, anno in cui hanno realizzato il carro allegorico grottesco Chuck, la storia continua, per rendere omaggio al sessantesimo anniversario del Carnevale Diavola. Nella parte anteriore del carro, a raccontare la storia è la vecchia signora, dalle belle vesti, che con la frase tutto ha inizio, ci mostra il momento in cui iniziarono le costruzioni dei primi carri allegorici, ed è egli a rappresentare tutte le vecchie tradizioni. Ai suoi lati, a sostenerla nel racconto, ci sono dei bagliacci, rappresentanti carristi che, nonostante i problemi e le difficoltà, sono riusciti a portare avanti il Carnevale fine oltre gli sgocci del loro sessantesimo traguardo. Quest'ultimi, la cui forza è raffigurata dai leoni laterali, trascinano dei teatrini, lungo le vie di rullini, raffiguranti i carri che hanno dato inizio a tutto. Mostra avola, città con le sue bellezze, l'arco delle meraviglie, dietro cui si innalzerà il grande orologio, rappresentante il tempo passato. Ad aprire il vero sipario della festa è la bellissima Ape Regina, nella sua magnificenza, Avola Regina, viene rappresentata con lo scudo coronato da due cornifocche, con richiami e prodotti tipici della città come la mandorla, i limoni e il nero d'Avola, ma anche il Carnevale del presente. È dall'intreccio di questi personaggi, che l'associazione culturale I Pochi Buoni, vuole mostrare, ai suoi spettatori, l'evoluzione del Carnevale dal 1961 sino ad oggi, per questo vi augura una buona visione. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.